Bene amici di Medicosnake, benvenuti in questa nuova video recensione in cui parleremo nuovamente dei modding soprattutto Google Apps ufficiali e dei vari servizi allegati perché da poco tempo su Play Store è disponibile l'applicazione OpenGaps.org Adesso alcuni di voi che stanno chiedendo cosa è OpenGaps.org non è altro che un sito che metta a disposizione a tutti quegli membri che fanno modding con il proprio dispositivo di scaricare i pacchetti zip delle varie applicazioni Google e dei servizi allegati e il sito stesso riordina sia tutti i piattaforma, sia tutti i clienti Android e sia quei varianti di quanto riguarda il pacchetto zip e il sito stesso riesce a ottenere un peso in base al pacchetto sulleccionato ma detto questo andiamo a scoprire insieme l'applicazione nella video recensione Dopo aver installato l'applicazione da Play Store e dopo avervi l'avviata ci troviamo davanti alla fase di comunicazione laddove ci viene chiesto di accettare i termini d'uso concedere i permessi di attivazione in caso si trattasse di Android 7.0 o versioni successive e concedere i permessi di rischio Inoltre l'applicazione OpenCaptive.org è in grado di rilevare in modo automatico l'architettura del nostro dispositivo che sia la versione Android.info Nella schermata finale di comunicazione invece ci viene mostrata la lista delle varianti dei vari pacchetti zip Una volta fatta la nostra selezione non ci resta altro che premere il pulsante 2 laddove ci viene filmata un'ulteriore filmata laddove possiamo visualizzare tutte le informazioni relative al pacchetto zip selezionato durante la configurazione mentre invece se vogliamo cambiare qualche parametro di configurazione non ci resta altro che prendere il pulsante cambia selezione mentre invece se vogliamo scaricare il pacchetto zip attuale non ci resta altro che prendere il pulsante scarica Ben amici di MidiCosnake siamo giunto alla fine di questa video recensione e per avere altre informazioni e i link di download sono online da oggi sulle pagine di MidiCosnake.servista.org Come ti consueto sia nelle info e sia nella descrizione del video trovate i link per andare direttamente all'articolo insieme a tutti gli altri link per seguire MidiCosnake sui vari social insieme a Costantino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace Per MidiCosnake, Raffaele, Mauri Ello Grazie a tutti